Pubblicato il 21 novembre 201.722 novembre 2017 Cecilia esce, Ignazio non la segue è vero amore grande fratello VIP si comporta da Cupido, per una volta, e durante la puntata riesce in ciò che non era riuscito agli hater del web durante questa settimana, ossia dividere la coppia Cecilia-Ignazio. Il televoto invece è spietato. Durante la puntata Cecilia abbandona la casa e Moser invece rimane dentro il gioco. Eppure la sorpresa non è quella dell'eliminazione. Al contrario ci si stupisce che la coppia, tanto solida nella casa, non abbia deciso di affrontare con la stessa coesione di questi giorni l'uscita di uno dei due membri dell'Unione a due, ma come, ci chiediamo, Ignazio che ha strappato Francesco Monte l'amore di Cecilia e per questo si è attirato numerose antipatie, lascia la sua pulzella ad affrontare tutto il distacco da Alex da sola proprio fuori dalla casa. Leggi anche GF VIP e lei serata di Belen non bene, come ha sottolineato Signorini all'inizio della puntata. Proprio l'opinionista ha detto chiaramente al ciclista che se Cecilia fosse uscita avrebbe dovuto seguirla. Lui annuisce di sbieco, poi ritratta. E Ignazio alla fine decide di restare. Non servono a nulla le scene di pianto fuori dalla porta rossa. Gli abbracci, le promesse alla fine contano i fatti. E i fatti sono quelli di un'unione che per ora non si è mostrata proprio inscalfibile. Certo, mancano solo due settimane alla fine, ma non sarà che qui la voglia di fama, batte altre voglie diciamo più passionali. Prima dell'uscita di Cecilia, anzi Cecilia, arriva però il battesimo, anzi la benedizione, dei Rodriguez, Veronica Cozzani, mamma di Cecilia. Entra in casa e parla con la figlia congratulandosi e conoscendo finalmente di persona Moser. Sono attimi di imbarazzo per il ragazzo ma anche di divertimento. Con la signora che spende belle parole per Moser. E qui arriva invece il secondo colpo di scena del programma. Con Veronica Cozzani tutta la famiglia Rodriguez, tre figli, papà e mamma e apparsa al GF VIP. Un vero gol per la trasmissione condotta da Hilary Blasi. Che pur non avendo potuto avere la più famosa della famiglia come concorrente ufficiale, cioè Belen si è accontentata di trascinare nel gioco l'intera famiglia almeno per qualche minuto. Insomma, la vera reina è proprio lei. Brava Hilary.